Sapevi che al bar ci sono un sacco di falsi miti sulla pulizia del filtro e del portafiltro? Te li elenco. Soda caustica, falso mito. Lavastoviglie, falso mito. Sale, falso mito. Aceto, falso mito. Limone, falso mito. Spugnete abrasive, falso mito. Eh sì, tutti i prodotti appena citati non sono adatti per la pulizia del filtro e del portafiltro per due motivi. Uno, rischiano di corrodere i portafiltri che possono essere in ottone o in acciaio e anche i filtri logicamente. E due, rilasciano degli aromi che rischiano di incidere in maniera negativa durante l'estrazione del caffè espresso. Come pulirli? Esistono dei detergenti specifici studiati e calibrati appositamente per pulire in maniera molto precisa la parte interna, quindi la coppa del portafiltro, compresi i beccucci, e i fori del filtro. Questi rimangono otturati dagli oli del caffè che rimangono intrappolati all'interno e il detergente permette di liberarli. Inoltre, non lasciano questi detergenti né odori né tantomeno corrodono le pareti metalliche. Questa pulizia viene fatta in modo molto semplice, veloce e senza sforzo, rispettando delle procedure e delle grammature ben definite. Eseguita la fase di detergenza, segue una fase di risciacquo con acqua calda. A questo punto il gioco è fatto. Prima Dopo In una delle prossime puntate della rubrica parleremo della pulizia del gruppo erogatore, ricordandoci sempre che una macchina espresso e macchina dosatore perfettamente puliti permetteranno al barista di non dover buttare più i primi caffè preparati la mattina presto, cosa che alcuni baristi purtroppo fanno, perché se rispettiamo tutte queste procedure, i primi espressi preparati la mattina saranno buoni quanto gli ultimi preparati la sera precedente. Stop Grazie a tutti. Grazie a tutti.